Straripamento Fiume Nera, mancata allerta. Dove erano i 36 sorveglianti e ufficiali idrici della regione? A chiederlo è Andrea Liberati, portavoce regionale del Movimento 5 Stelle. 150.000 persone a rischio lungo tutto il bacino. Liberati riferisce anche che alle 13.10 di sabato 16 dicembre, mentre da ore era tracimato il Fiume Nera da Borgo Cerreto sino ad alcune frazioni di termi con animali e cose da mettere in salvo, mentre le coltivazioni erano allagate. Il sito della regione Umbria continuava a non evidenziare alcunché, parlando solo di criticità ordinarie, essendo le informazioni ferme ancora a venerdì 15, senza il minimo aggiornamento.